Ospiteremo il primo concerto italiano di Afghan Youth Orchestra, l'orchestra giovanile dell'Afghanistan. Questa orchestra, composta da oltre 40 elementi fra ragazzi e ragazze, arriverà con una delegazione di 25 persone che si uniranno all'Orchestra Olimpia per un concerto al Teatro Rossini, dove metteremo insieme gli strumenti della nostra tradizione occidentale e gli strumenti della musica tradizionale afghana per un concerto davvero speciale. Ricordiamo che questi ragazzi e tutta la comunità musicale dell'Afghanistan è esiliata in Portogallo fin dal ritorno dei talebani nel 2021, 15 agosto. Da quel momento la musica in Afghanistan è tornata ad essere un crimine che è perseguito con il carcere e anche con la stessa vita. Con l'aiuto della comunità internazionale tutta la scuola Afghanistan National Institute of Music, con cui l'Orchestra Olimpia intrattiene rapporti fin dal 2019, sono riusciti ad arrivare in maniera sicura in Portogallo dove hanno ottenuto l'asilo politico di gruppo. Siamo molto felici di ospitare questo concerto che prima di Pesaro è stato all'ONU a Ginevra e ha riscosso un enorme successo per il messaggio che porta di un Afghanistan diverso perché la giuventù afghana crede di essere rappresentata da valori diversi che sono quelli dell'inclusione, sono quelli della parità di genere e della fratellanza. Vi aspettiamo al Teatro Rossini per questo evento davvero unico, straordinario oserei dire storico e importante.